Ciao bimbi, benvenuti a Nido a distanza, cari gion! Come state? Spero tutto bene! Avete visto in un modo un po' speciale, ci rivediamo e sarà ancora più divertente! Allora bimbi, oggi Paola ha una gran voglia di cantare. Vi va di farlo con me? Sì? E allora mettiamoci comodi, anche a terra senza le scarpette. E prima di iniziare ricordiamo a mamma e papà o ai nonni che sono con voi che questa attività, l'attività musicale, serve a sviluppare quella che è l'attenzione e la vostra memorizzazione. Serve a distinguere quello che è un suono da quello che è un rumore e serve ad imparare a mimare e a ballare al ritmo di musica. Iniziamo? Oggi lo voglio fare in un modo un po' speciale, utilizzando la nostra scatola delle sorprese. Ve la ricordate? Spesso la utilizziamo anche a scuola. Allora, manine! Bimbi, ve lo ricordate? Lo sceriffo! Pronti? Lo sceriffo, fo, ha due baffi, fi, il cappello, lo, gli stivali, li, la cintura, la, e la stella, la, due pistole, le, ma non sa sparare, ma non sa sparare. Forte! Bimbi, ve lo ricordate, ma non sa sparare, ma non sa sparare, ma non sa sparare. Forte! Forte! Pimbi, pu, pa! Bravissimi! Andiamo avanti, sì? Prendiamo la scatola magica. Ooooooh! Olè! L'avete riconosciuti? Bravissimi la manzoncina pappaccina con i fuochi d'artificio! Bravissimi! Pronti? Vi ringraziamo, cittadini! L'accoglienza che ci fate, e con i soldi che ci date, faremo i fuochi d'artificiali! E' uno, e' due, e' tre! 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 Meravigliosi come sempre! Spero che vi siete divertiti con me, e ci vediamo alla prossima! Un bacione a voi, a mamma e a papà, e anche ai nonni! Ciao, Pimbi! Ciao!